Un nuovo spazio politico per l'economia sociale in un paese dove le diseguaglianze e le fratture sociali sono aumentate e stanno ulteriormente aumentando con questa situazione di crisi e di difficoltà economiche. La cooperazione tutta, sia quella che si identifica nel terzo settore, sia la cooperazione in senso generale è parte integrante dell'economia sociale e quindi in quanto tale strumento fondamentale per combattere queste precarietà e queste diseguaglianze. Grazie